Il mercato delle auto elettriche in Italia fatica a decollare, confrontando i numeri con quelli di altre nazioni europee che tanto meglio però non fanno, è evidente constatare come la transizione energetica sia ancora indietro nel nostro paese. I fattori di un mercato che non riesce ancora a conquistare gli italiani sono molteplici, sono diversi gli studi condotti per analizzare i fattori che influenzano la lentezza delle vendite di auto elettriche. La Stellantis vede nello stabilimento di Pomigliano d'Arco in campagna uno dei suoi bacini di produzione più floridi, una fabbrica capace di competere con i più alti standard di produzione internazionale anche negli stessi ritmi. Ma anche in questo caso non è ben chiara la direzione che i vertici aziendali vogliono prendere sul tema elettrico. A Napoli si è discusso anche di questo all'assemblea di Wilm, in questa occasione il leader dei metalmeccanici della Wil, Rocco Palombella, ha invitato l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, a fare chiarezza sulle strategie future, soprattutto in tema elettrico. Ascoltiamo. Ce lo devono comunicare come intendono affrontare il tema della transizione e come intendono affrontare anche il tema del lavoro legato non alla panda che noi non la lasceremo mai, ma come loro intendono sostituire altri modelli. L'elettrificazione c'è o non c'è? Loro sono in grado di mixare i due prodotti endotermico e elettrico sì o no? A ritornare su Pomigliano d'Arco è anche il segretario generale della Wilm Campania Crescenza Auriemma che sottolinea che l'ibrido continua ad essere più conveniente dell'elettrico. Se oggi applicando la regola europea che nel 2030 noi dovremmo avere tutti quanti l'auto elettrica, con i costi che ci sono di una vettura ci comprerebbe un'auto elettrica. Fermo restante che oggi i costi di ricarica di un'autovettura elettrica sono superiori a quella di un fuel normale.